ciao ragazzi io sono red e come avete potuto intuire oggi parliamo di winchester che non si chiamano winchester ma è la nuova serie della aek mi cade la maschera ma è la nuova serie della aek ovvero la 1873 perché non potevano chiamarlo winchester per motivi di copyright e quindi l'hanno chiamato 1863 come l'anno in cui è stato prodotto questo gioiellino questo ovviamente è una versione moderna ma ce ne sono anche altre due che avete potuto vedere dietro di me compreso il signor pallotto la 2.0 questa fare è stupendo ma bando alle ciance non vedo un cazzo sigla cominciamo quindi parlando di questa nuova serie e capiamo quali sono i suoi punti di forza quali sono le sue peculiarità e quali sono invece le cose che magari non ci sono piaciute perché sì anche se stiamo recensando una serie ci sarà il vostro adoratissimo warrage partiamo quindi con quello che mi è piaciuto e sulle caratteristiche principali dei tre modelli ancora prima in realtà di parlare delle caratteristiche principali vi voglio farvi vedere quali sono questi tre modelli di cui vogliamo andare a parlare il primo è la versione lunga ovvero quello con canna lunga calcio completo sempre tutto il legno sempre tutti in metallo sempre con questo bellissimo ris lungo e con questo paramano e block questo è il modello che io personalmente preferisco in quanto sono fan di clint eastwood al cuore ramon sono parole due no questo ovviamente è stato rimodernizzato revisionato rivisitato in modo tale da essere un pochino più al passo coi tempi c'è questo bellissimo anellino che vi serve per utilizzarlo anche con cinghie a un punto che fa questo bellissimo rumore l'unica cosa che mi ha dato fastidio per il resto è veramente molto interessante il secondo modello invece è la versione short di quello che vi ho fatto vedere prima ovvero senza il calcio con canna accorciata però silenziatore integrato questo è uno dei più interessanti anche se personalmente preferisco l'altro perché cerca di portare qualcosa di nuovo all'interno di una serie che è quasi vecchia come lo stato italiano cercatelo e ditemi cosa ne pensate quindi troviamo sempre un paramano e block dove possiamo montare tutte le nostre slitte picatinny rail superiore molto molto carina sempre qui ris molto lungo dove possiamo attaccarci una miriade di cose compreso l'unpack si pensate questo affare con l'unpack anche qui troviamo l'anellino laterale per attaccarlo a un punto che con questo viene molto molto comodo in quanto essendo corto possiamo muovercelo sul lato in maniera sempre comoda qui troviamo la leva d'armamento un po più larga come potete vedere perché essendo più corto possiamo fare quel giochino l'arno spazza negar qui troviamo la leva d'armamento con un anello molto più grande che ci rende quindi più facile il caricamento non che nell'altro se ne sia bisogno ma visto che questo è un fucile che tendenzialmente non caricate quando siete in puntamento vi agevola il movimento tra l'altro gra io t'ammazzo su questo modello abbiamo sì canna più corta ma anche un bellissimo silenziatore molto molto carino devo dire che ha fatto veramente bene è un uno di quei silenziatori quadrati non tondi che si sposa bene con la linea del fucile infine come l'ho soprannominato io il signor pallottola mi piace di chiamare signor pallottola più o meno tutti quei fucili che sono piccoli ma veramente molto incazzati e penso che questo rientri perfettamente all'interno di questa categoria anche qui troviamo una leva d'armamento un pochino più larga questo è oro quindi gold l'oro del deserto l'oro del texas molto molto carino stessa cosa di prima su questo troviamo proprio la canna completamente corta calcio tagliato sempre leva d'armamento un pochino più grande sempre anellino che fa casino come un harley e questo è sostanzialmente qua notare che il calcio è in vero legno con anche questo bellissimo fondino placato in oro ovviamente finito però sempre in metallo come in quello vero troviamo poi tutto il resto del corpo full metal quindi tutto questo è metallo sia ris che il paramano emlock che le due canne davanti ovvero la canna principale poi quella per il per mia comodità mentre ve ne parlo terro in mano la versione più corta perché non avendo il calcio riesco ad avvicinarmi alla videocamera in maniera più semplice com'è che andiamo a caricare quest'arma prima di tutto mettiamoci dentro il gas come mettiamo dentro il gas ecco ognuno di questi tre modelli ha un modo uguale ma leggermente diverso per andare a caricare il green gas all'interno perché si funzionano con green gas non avete né le bombe di co2 né un sistema hpa e già che ci sono vi dico anche e rubo un po la parola al buon war uno dei lati più negativi di questa serie sono sicuramente belli sono sicuramente fighi ma soprattutto in questo nel modello con la canna più lunga e con il calcio caricare il gas è un pochetto macchinoso su questo per esempio dobbiamo andare a rimuovere il silenziatore per andare a caricare il gas perché sostanzialmente quando lo andiamo a rimuovere troviamo un serbatoino che sta proprio qua sotto la canna principale e coperto dal paramano e dobbiamo andarlo appunto a rimuovere e caricare il gas in questa maniera come rimuoveremo il silenziatore basta svitarlo vedete che questa bocca qui del silenziatore ha un taglio dai due lati beh dovremmo andare a mettere una moneta dentro svitarlo rimuoverlo caricare il gas e poi dopo una volta che avremo caricato il gas andare a rimettere tutto insieme questo rende il tutto molto molto macchinoso in quello lungo il sistema è un po meno macchinoso ma comunque non troppo piacevole giusto sotto a questo tappino qua troviamo un bottoncino che noi dovremo andare a premere e non possiamo premere con le nostre sole mani sole i mani in realtà non è un bottoncino è un cuscinetto a molla che noi dovremo andare a spingere dentro e non lo possiamo fare a mano e ci vuole qualcosa di veramente molto piccolo tipo una piccola brugola andare a spingerlo dentro questo cuscinetto a molla sostanzialmente va a liberare questo tappino andiamo a caricare il tutto e lo rimettiamo questo non è sicuramente macchinoso come rimuovere completamente il silenziatore però comunque nel caso ce ne venisse bisogno una ricarica veloce in campo è quasi fuori discussione quasi infine il premio per sistema più intelligente lo vince sicuramente il signor pallottola questo perché in questo modello e non capisco perché sicuramente ci sono buoni motivi non sia stato fatto anche nell'altro ci basterà andare a premere questo tastino qua di fianco che va a liberare il tappino qui sotto come negli altri troveremo la valvola per caricare il green gas una volta che avremo finito ci basterà riposizionarlo dritto davanti e premere in giù e questo si va a chiudere questo sicuramente il sistema più comodo e veloce di tutti e tre e in generale c'è da dire che tra i vari fucili a gas complessi come questi non una pistola a uno dei sistemi per caricare appunto il gas più comodo che io abbia visto finora tenendo conto che si parla di fucili che non abbiano valvola vista perché sennò apriamo tutto un altro discorso però questo è veramente veramente ben fatto complimenti a e k come potete vedere non troviamo né caricatori da pistola né caricatori da m4 da infilare da qualche parte quindi dove gli inseriamo dove lo infilo tutti i fan del realismo in questo momento stanno godendo perché hanno già capito come si fa ovvero andiamo a spingere dentro questo sportellino come sostanzialmente avviene nei fucili a pompa che va a liberare quindi un ingresso per i pallini noi inseriamo poi una siringa e andiamo a buttare dentro quindi tutti i pallini di cui abbiamo bisogno grazie a una siringa tiene per chi se lo stesse chiedendo 25 colpi alla fine di questi sarà necessario andare a ricaricare anche il gaso alcuni potrebbero dire sì che bella besia che bella cagata lascio poi la parola war che ne ha comprato uno perché un po un matto pazzerello ragazzo e l'ha provato l'altro ieri in campo e vi dirà lui come si è trovato quindi io qui non metto bocca io lì non metto mano ed è con questa maglia di un colore infelice di boobagam gamperi che parlo dei suoi problemi questo qua è il mio personale perché perché non si può non avere un winchester e questo warrage parte col mio personale perché è la prova lampante che quando un fucile ti piace te ne frega il cazzo se è impossibile da ricaricare questo qua in particolare è il modello con più problemi in assoluto analizzando tutte le cose in ordine la prima qua è il silenziatore stile osprei bellissimo ma la carica di gas è qui sotto da svitare qua sopra con la monettina del cazzo e poi una rondella del bricoman che ti danno in confezione ci vogliono 40 minuti e 7 dita perché servono quelle di ricambio che si spaccano le altre una volta svitato e ha 800 giri di filettatura lui rimuovi metti dentro a questo incavo nella slitta ris la bombola ricarichi e a quel punto ti viene in mente che la tua valvola della bombola è troppo corta per entrare fin qua quindi apri la confezione prendi l'adattatore che ti regala la e k bestemmi per aver comprato questo fucile e carichi la suddetta replica dopodiché rimetti il silenziatore lo riavviti intanto le vostre palle avranno il suo stesso peso che gira intorno ai due chili e mezzo dopodiché devi andare a metterci i pallini dentro non puoi farlo a mano perché il nostro ditino europeo è più grosso del buco che c'è per mettere i pallini quindi non essendo in casa almeno la maggior parte di noi dovrà usare la siringhetta che ti danno in confezione altre bestemmie andate a mettere dentro buttate dentro i 25 colpi tutti d'un botto e a quel punto vi ricordate che va anche regolato lo pop come si regola lo pop beh bisogna tirare indietro la leva d'armamento infilare qui dentro una brugola non si vedrà mai una volta regolato lo pop siete pronti finalmente a sparare ho elencato davvero tanti problemi ha davvero tanti problemi ma non tanto nelle prestazioni quanto nella comodità d'utilizzo poi vai a pensare che è un winchester e che quindi chi se ne frega se non è così comodo da caricare io ho giocato weekend scorso con questo gioiellino appena arrivato l'ho preso subito e mi sono divertito davvero 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 tanto avevo con me anche l'MCX nuovo di pacca da ancora da usare me ne sono fregato questo mi ha fatto divertire molto di più c'è chi potrebbe sollevare i dubbi sulla capienza sì sono 25 colpi sono pochi però in realtà il fatto che sia tutto così macchinoso da caricare vi fa riflettere su quanto ogni premuta di grilletto vi costi quindi ogni colpo diventa un po più ponderato e vi dirò non ho sentito la mancanza di un caricatore più capiente fra tutti i problemi che ho elencato vanno un po a cadere e a disseminarsi negli altri due modelli quello corto fenomenale nessun lato negativo però cazzo manca la slitta non so cosa dire degustibus quello lungo invece è la giusto compromesso tra comodità di ricarica e arma bella essenzialmente io comunque ho voluto scegliere lui nonostante fossi coscientissimo di tutti i problemi perché secondo me questo design è spettacolare detto questo ti lascio le conclusioni siamo dunque arrivati guarda che si è anche alzato in punta di piedi siamo quindi arrivati alle conclusioni finali dove vi diciamo cosa ne pensiamo di questa serie di fucili e la mia unica confusione finale per una volta non farò uno sprolochio di 15 minuti è questo è come ha detto war una di quelle serie di fucili in cui la comodità può essere sacrificata per il divertimento ovvero tendiamo spesso in queste parti del video a parlare 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 di ogni piccola cosa che non è perfetta per l'operatore ogni piccola cosa che a noi non piace eccetera 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 questo è uno di quei fucili in cui tutto questo e ce ne sono variati i punti dove noi diciamo non è comodo non vi importano perché quando siete in campo e state giocando con un fucile del genere vi ripaga di tutte quelle piccole robe che vi danno fastidio con un gameplay della moda ma perché vi divertite davvero tantissimo e per quanto riguarda invece la valvola di caricamento quindi questa cosa macchinosa dove bisogna sempre cercare di svitare silenziatore o aprire un tappino per caricare si stava ragionando di serve un modello comodo questo qui si stava ragionando di provare a spostare la valvola di caricamento del gas qua sotto dove vedete quella fare lì giallognolo oro che in realtà è la valvola di manutenzione dove normalmente ci mettono gli oli per lubrificare tutto il resto e si stava ragionando che se noi si sposta quella valvolina qua poi dopo si può caricare senza dover smontare nulla perché tanto è coperta da ris quindi non è in bella vista allo stesso tempo ci arrivate perché il beccuccio per caricare con la bombola del gas appunto ci passa ragazzi qua è alta ingegneria non so se ve ne siete resi conto quindi se qualcuno di voi poi dopo lo vuole acquistare e vuole fare questa modifica potete richiederla perché probabilmente la possiamo fare per quanto riguarda il voto preferiamo non darlo perché a è una serie di fucili b è talmente particolare ed è talmente soggettivo che dare un voto il più oggettivo possibile è molto difficile sfiora il collezionismo è un po' come dare un voto a un revolver a cilindro di quelli dove mettiamo dentro tutti i bossoli nel senso è ovvio che il voto se dovesse essere paragonato a pistole automatiche è molto in basso perché ha tutta una serie di debuff che lo portano in basso però io li adoro e li compro e li utilizzo e mi ci diverto quindi capite no quindi piuttosto diteci voi che voto gli vorreste dare nei commenti magari motivando la risposta chissà che qualcuno di voi non venga selezionato quindi io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi spero che questa recensione vi sia piaciuta rimanete soprattutto sintonizzati in modo per dirvi di iscrivervi e attivare la campanella di prossimo quindi mercoledì della prossima settimana faremo una bellissima sfida io e il buon war quindi tornano anche gli sfidoni war versus red red versus war war versus the world sfideremo una battaglia navale usando proprio questo fucile come funzionerà quali saranno le peculiarità lo scoprirete mercoledì prossimo bene io spero che questo video vi sia piaciuto vi rinnovo l'invito di andare a guardare in descrizione iscrivervi ai nostri instagram e soprattutto visto che è sabato vi ricordo che sempre descrizione c'è il link per software shop di reggio emilia negozio che ovviamente sponsorizza che mi permette di fare video proprio qui dentro perché tutti questi bucili purtroppo non sono miei e sempre in descrizione se andate sul sito visto che è sabato ci sono sei incredibili però quasi sotto costo qui da red è tutto e stay angry iscriviti al canale